benvenuti su un piccolo shopping amici ora oggi siete qui con me con jingle bell eccomi sono la vostra personal tutor oggi vi proponerò un nuovo attrezzo per la vostra forma fisica queste nuove scarpe le più comode per questo tempo di esercizio e fai i glutei e i polpacci e le carotidi ora queste splendide cose sono vostre a casa vostra a un prezzo eccezionale solo 320 euro amici guardate comodissime su questo attrezzo che è in vendita per voi centrate nelle prime mezzo di chiamate chiamate subito amici e se pagate con carte di credito o con basta pay vi faremo uno sconto sulle spede di spedizione vi manderemo due tacchi amici tutti e due tacchi amici questi tutti per voi amici l'hai chiamata? è quasi gratuita vedete solo un piccolo sconto la risposta di 13 euro e 20 amici chiamate subito media shopping jingle bears vi saluto amici stacca